Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max che apriamo con la cronaca droga maxi retata della squadra mobile di Pescara. In manette sono finite 38 persone. Le indagini hanno preso il via dopo l'omicidio di Manuela Di Cesare, transessuale uccisa nel 2007. Nell'ambito di un'operazione denominata Cormorano, la polizia di Pescara ha eseguito 36 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un gruppo criminale composto da alcune famiglie nomadi della provincia, pregiudicati pescaresi e campani e da stranieri di origine albanese, tutti dediti al traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. L'indagine ha preso le mosse dall'omicidio di Manuela Di Cesare, transessuale morta nel 2007 a Pescara, quando venne scoperto un importante traffico di sostanze stupefacenti che interessava più gruppi criminali. L'operazione ha permesso di smantellare un traffico di droga proveniente dall'Albania, dalla Campania e dalla Lombardia e destinato al mercato pescarese. In tre anni di indagini sono stati arrestati in flagranza di reato 15 corrieri e sequestrati armi, esplosivo e circa 37 chili di eroina e cocaina per un valore di quasi 3 milioni di euro. Nel corso delle indagini sono stati individuati 5 diversi gruppi criminali che interagivano tra loro, a cui poi se ne è aggiunto un sesto che faceva capo a un nomade locale e ai suoi referenti albanesi, Pierfrancesco Muriana, dirigente della squadra mobile di Pescara. È uno spaccato di tre anni di realtà criminale pescarese che è sicuramente importante. È una realtà articolata che oggi ha subito senza dubbio un duro colpo. I numeri parlano chiaro. Un alto numero di indagati, un alto numero di misure cautelare messe, un ingente quantitativo di droga sequestrata nel corso delle indagini, collegamenti internazionali con trafficanti albanesi, più province e più regioni coinvolte. Direi che possiamo sicuramente parlare di un'indagine di livello alto. Ancora a cronaca, la Procura di Teramo ha chiuso l'inchiesta sul crollo di parte della carreggiata sud del raccordo alla statale 80 Teramo Mare, avvenuta il 22 aprile del 2009. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di 5 persone per concorso in frana colposa. Si tratta di due direttori dei lavori dell'ANAS, il rappresentante legale dell'Associazione Temporanea di Imprese che aveva l'appalto dei lavori, il titolare della ditta esecutrice e il direttore tecnico del cantiere. Oggi, 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua, ma a Lanciano c'è ancora un rinvio dell'Assemblea dei sindaci del lato Chietino, convocata per l'approvazione del nuovo piano tariffario. I sindaci del Partito Democratico parlano di mortificazione del territorio e accusano il centrodestra di voler privatizzare la gestione dell'acqua. Nuovo rinvio dell'Assemblea dei sindaci del lato del Chietino per votare il nuovo piano tariffario dell'acqua, questa volta per l'impossibilità a partecipare del commissario straordinario Pierluigi Caputi. Il rinvio è stato comunicato ieri sera via fax ai 93 sindaci componenti dell'Assemblea. Caputi era assente perché convocato dal governatore Chiodi per prestare assistenza tecnica in consiglio regionale nella definizione dell'iter d'approvazione di un disegno di legge di primaria importanza afferente alla tematica. Un rinvio che i sindaci del PD, riuniti a Lanciano presso il Palazzo degli Studi, non accettano e considerano come l'ennesima mortificazione per il territorio e un passo in più verso la privatizzazione dell'acqua. Il sindaco di San Salvo, Gabriele Marchese. Io ritengo che sia scandaloso questa ennesima incursione da parte del Presidente della Regione nei confronti dei sindaci, un'assemblea democraticamente eletta per approvare il piano d'ambito. E' ancora più scandaloso i sindaci del centro-destra che gli tengono bordone, che fanno saltare un'assemblea per approvare il piano d'ambito dove sono previsti gli investimenti per realizzare depuratori, per portare l'acqua in quelle realtà dove l'acqua non c'è. E quindi ancora una volta si dimostra che questo governo centralista preseduto da Gianni Chiodi interviene a gamba tesa nei confronti dei sindaci per far sì che venisse approvato un documento che già la terza volta che viene portato in assemblea dei sindaci non riesce a passare perché c'è una irresponsabilità da parte di alcuni che stanno facendo amoina, come si dice a Napoli, per non approvare questo piano. Dopo i danni che hanno fatto sulla sanità, adesso fanno ulteriori danni per quanto riguarda l'acqua. E allora a questo punto mi viene da dire che molto probabilmente il governo di centro-destra vuole dare l'acqua in mani privati all'interno di questa regione. Trasferimento in corso per 130 detenuti dal carcere di Sulmona a quelli di Pescara e Avezzano. L'obiettivo dichiarato è quello di trasformare la casa di reclusione di Sulmona nella più grande casa lavoro d'Italia. Vediamo. Trasferimento cominciato per 130 detenuti dal carcere di Sulmona in quelli di Pescara e Avezzano. Un trasferimento che fa seguito ad una relazione esposta o presentata dal presidente del Tribunale di Sorveglianza, Laura Longo, al Ministero della Giustizia, nel quale si evidenziano i gravi problemi strutturali e di violazione dei diritti dei detenuti e degli internati presenti nel carcere Peligno. Secondo il magistrato, infatti, gli spazi piccoli, la mancanza di lavoro, la presenza dei muri divisori nelle sale colloqui, la promiscuità tra detenuti comuni e internati rende la reclusione di questi ultimi anticostituzionale. Per questo, dopo una visita nel febbraio scorso, il presidente del Tribunale di Sorveglianza ha invitato il DAP a prendere provvedimenti trasferendo una parte dei detenuti comuni di media sicurezza in altri carceri abruzzesi. L'obiettivo è quello di trasformare la casa di reclusione di Sulmona nella più grande casa lavoro d'Italia, dove cioè possono trovare ospitalità gran parte dei cosiddetti internati, detenuti che hanno finito di scontare la pena ma considerati socialmente pericolosi per la cui rieducazione e risocializzazione è necessaria e prescritta l'attività lavorativa. A questo proposito, nel piano carceri è prevista la realizzazione di un nuovo padiglione in cui saranno ospitati 200 internati. I lavori dovrebbero iniziare subito dopo l'estate. A basto, invece, OSAP, CISL, FNS, SINAP e UGL hanno proclamato un nuovo stato di agitazione del personale di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Torresinello. L'azione di protesta scaturisce dei rapporti conflittuali tra i rappresentanti dei sindacati e il direttore Carlo Brunetti, accusato in una nota di una serie infinita di violazioni delle regole al fine di poter affermare la propria autorità. Una situazione che i sindacati ritengono insanabile e per la quale annunciano che valuteranno la percorribilità di ulteriori iniziative. A Lanciano, intanto, oggi pomeriggio nel quartiere Santarita, si sono svolti i funerali di Mario Di Fonso, il giovane 35enne morto suicida nel carcere di Pescara sabato scorso. Lanciano offire il nuovo presidente Domenico Cirulli, incontra per la prima volta la stampa e illustra gli obiettivi del mandato. Il CDA preannuncia a breve una nuova rassegna fieristica. E nessuna polemica con il predecessore Donato Di Fonso, esautorato dal sindaco Filippo Paolini. La presentazione di Abitare oggi 22esima edizione è stata l'occasione per il nuovo presidente di Lanciano Fiera di incontrare per la prima volta la stampa. Domenico Cirulli, eletto dal CDA dopo nomina del sindaco Filippo Paolini al posto di Donato Di Fonso, ha indicato da subito le priorità del suo mandato, evidenziando comunque che la crisi generale ha colpito inevitabilmente anche l'ente fiera. La crisi economica c'è per tutti, c'è per la Sever, a Lanciano, parlo di Lanciano perché questa riguarda tutta l'Italia e non solo, c'è anche la nostra fiera, c'è anche la San Marco, anche noi non viviamo un movimento bello, è sicuro, però questo sembra che ci sia un risveglio, come dire, no? L'attività economica, c'è una ripresa, bene, noi la cercheremo di cogliere anche noi, questa ripresa, io cercherò come insieme ai miei consiglieri e ai dipendenti di mettercela tutta, come? Lavorando, lavorando, lavorando. E poi a quanti gli chiedevano del clima trovato all'interno del Consiglio di Amministrazione spaccato al momento dell'elezione del nuovo presidente, Cirulli ha risposto smorzando ogni polemica con il suo predecessore, che ha definito l'amico Donato. Come ha trovato il clima al lato del suo insediamento all'interno del CDA? Sì, è vero, c'è stata una piccola storia, insomma, un po' di polemiche, però adesso no, adesso non più, mi sembra che, lo dico apertamente, anche perché non c'è più tempo, non c'è più tempo di parlare di polemiche, assolutamente, noi dobbiamo parlare adesso del futuro della fiera, questo è quello che penso di farlo. E poi nei prossimi giorni il CDA varerà sicuramente una nuova fiera, se non due? Adesso questo è ancora prematuro parlarne, ma sicuramente in cantiere. Politiche sociali, a Pescara arriva il Disability Manager, la nuova figura professionale, già interna all'amministrazione pubblica, dovrà occuparsi di rimuovere tutti gli ostacoli fisici e immateriali che possano complicare il rapporto dei disabili con la città. Il Comune di Pescara ha intenzione di istituire una figura manageriale che si occupi di promuovere e gestire attività di sostegno a disabili. Il Disability Manager, così viene indicato, dovrà essere competente in materia urbanistica, architettonica, mobilità urbana, al fine di realizzare interventi che si ispirino al concetto della città per tutti. L'idea di istituire per ora soltanto in via sperimentale questa figura professionale è dei consiglieri del PDL al Comune di Pescara, Daniela Arceri Mastromattei, Vincenzo Rincecco Massimo Pastore ed Armando Foschi, che ascoltiamo. Una figura nuova nel mondo delle istituzioni, attende le problematiche dei disabili all'interno della città, quindi una figura tecnica non politica che deve individuare tutte le problematiche all'interno della città in base alla segnaletica, in base agli ostacoli e quindi rendere una vita accessibile e diversamente abili. A partire dal Palazzo di Città, infatti, sarà il primo punto ad essere oggetto dell'intervento. La mozione nei prossimi giorni dovrebbe già arrivare in Consiglio Comunale, secondo la programmazione adesso inizieremo la fase del bilancio, comunque nel giro di un mese dovrebbe venire sottoposto al voto del Consiglio Comunale. Un problema così grande è poi di interesse sociale che non dovrebbe trovare ostacoli, è una contrapposizione. Prevenzione. La Fondazione Cantiere Abruzzo Giovani promuove una settimana dedicata alla prevenzione sull'uso delle droghe. Il convegno itinerante dal titolo I veri stupefacenti siamo noi sarà portato in cinque diversi incontri a Pescara, Teramo, Casalbordino, Vasto e Monte Silvano. L'iniziativa è stata presentata oggi. È stato presentato questa mattina dalla componente giovanile della Fondazione Cantiere Abruzzo Italia il programma della settimana dedicata alla prevenzione sull'uso delle droghe con un messaggio chiaro I veri stupefacenti siamo noi. Un'iniziativa composta da cinque incontri che dal 23 al 26 marzo vedrà coinvolti i comuni di Pescara, Teramo, Casalbordino, Vasto e Monte Silvano. Jessica Verzulli, coordinatrice di Cantiere Abruzzo Giovani. Gli incontri ovviamente sono degli incontri di prevenzione dove si parla delle sostanze stupefacenti informando i ragazzi degli effetti delle droghe sul corpo e sulla mente e soprattutto cercando di prevenire l'abuso che i ragazzi sempre più in giovane età fanno di queste sostanze. Quindi sono dei veri e propri incontri di informazione e di prevenzione. L'iniziativa di Cantiere Abruzzo Giovani ha già riscosso un notevole successo nel primo convegno tenutosi a Chieti il 4 dicembre scorso. Noi abbiamo avuto già un riscontro positivo a Chieti dove questo convegno è stato sperimentato il 4 dicembre con sempre le scuole superiori e abbiamo avuto dei risultati veramente positivi. Tra l'altro Enrico Comi che sarà il relatore principale di questi cinque incontri è un ex tossicodipendente che viene da Milano che ha già fatto convegne a più di 190.000 ragazzi e a fine convegno noi abbiamo sottoposto un questionario anonimo in cui veramente ci sono stati dei riscontri molto positivi. Quindi per noi è un successo se già un 10% o un 20% di ragazzi che assistono al convegno escono con una consapevolezza diversa e magari decidono di cambiare opinione o di cambiare stile di vita. La pagina dello sport, calcio, la Virtus Lanciano ha ripreso gli allenamenti con l'obiettivo di vincere a Cava e rientrare così in zona playoff. Squalificati Mammarella e D'Aversa, in forte dubbio Colombaretti e Artistico il servizio. A suon di gol la carica verso i playoff del Foggia che piega l'Atletico Roma e avvicina il Taranto comunque indenne a Barletta. La Juve Stabia imita la Nocerina con la sua striscia vincente. Il Lanciano riesce a scavalcare il Siracusa e il Benevento a domare il Pisa con una rete del fischiato evacuo in occasione del posticipo. La serie utile di Dino Pagliari, ex Lanciano, con due vittorie su due da quando siede la guida dei Toscani si interrompe così al cospetto delle streghe. A vuoto in casa Viareggio e Forigno ma la Lucchese tiene lontana la Cavese sempre ultima e con l'acqua alla gola a meno sette dalla penultima. Proprio gli Aquilotti riceveranno la visita del Lanciano in una tappa fondamentale per la rincorsa al quinto posto. Rossoneri in serie positiva con tre partite che hanno fruttato sette punti e accorciato le distanze dal Taranto, ora più tre, registrato la fase difensiva con Chiodini che da oltre 270 minuti non subisce reti. L'esame vero e proprio sarà in terra campana quando si cercherà il colpaccio con Camplonex di turno e una squadra che si giocherà fino in fondo le residue speranze di accedere almeno alla lotteria dei play-out senza retrocessione diretta. La Cavese infatti ha in calendario anche il recupero col Barletta partita sospesa per pioggia e ora prevista per il 3 di aprile. In due occasioni dunque i campani potrebbero davvero riaprire la propria stagione. Oggi Lanciano ha ripreso gli allenamenti, emergenza a centrocampo con daverse di Cecco che sono stati squalificati mentre Mammarella soffre di noie muscolari. Non al meglio anche Colombaretti ed artistico dunque bisognerà ridisegnare la Virtus nell'ennesima partita chiave. Una vittoria alimenterebbe la rincorsa, un pari complicherebbe la situazione ma con l'appello per il ritorno al biondi, ad una sconfitta, nessuno vuol pensare. C'è ancora una notizia di calcio. Il procuratore federale a seguito della segnalazione della Covizoc ha deferito alla commissione disciplinare 16 club di Lega Pro e rispettivi legali rappresentanti tra i quali la Virtus Lanciano per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione per effettuare il pagamento degli stipendi di luglio, agosto e settembre. Il Tg Max termina qui. Vi ricordo alle 23.30 l'appuntamento con la musica di Coverone, il nuovo format TV in onda su Telemax. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie.